Sabrina Ferilli, ritocchino, l'attrice e rifatta Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e note in Italia. Oltre ad essere apparsa in una moltitudine di film e fiction, Sabrina è diventata famosa fin dagli anni 90. È passato alla storia il suo spogliarello al circo massimo dopo la vittoria della Roma, che quell'anno ottenne lo scudetto. Ad oggi l'attrice è ancora estremamente famosa, e diverte tutti nel suo ruolo di giudice popolare a Tussi Kevales. Molti però si sono chiesti se la Ferilli si sia rifatta nel corso degli anni, perché sono diventate virali delle foto del passato in cui la donna apparirebbe diversa. Queste immagini che sono circolate molto sui social, risalgono al 1996 ed in molti hanno fatto notare che i suoi zigomi del passato, sembrerebbero essere meno pronunciati rispetto a quelli attuali. Ebbene, Sabrina non ha mai confermato di essersi fatta degli interventi di chirurgia estetica al viso, né tanto meno agli zigomi. Considerando che oggi la bella attrice ha 59 anni, nelle foto trapelate sul web Sabrina dovrebbe avere 32 anni. Secondo però quanto è stato osservato, semplicemente all'epoca la Ferilli aveva una chioma piena di ricci che nascondeva alcuni suoi tratti, proprio come gli zigomi, che quindi apparivano leggermente meno pronunciati. Di conseguenza sembra che Sabrina non si sia sottoposta ad alcun intervento al volto. Oltre al viso, dalle foto che sono diventate virali sul web si vedono anche cambiamenti nel corpo. Infatti, sembra che il seno dell'attrice fosse più piccolo quando era molto giovane. L'ipotesi di un intervento per aumentare la taglia del seno rimane possibile, ma non esistono conferme visto che Sabrina Ferilli non ne ha mai parlato. Queste in merito alle operazioni rimangono soltanto speculazioni e voci mai confermate. In un'intervista, inoltre, la Ferilli ha anche rivelato che per mantenere il bel fisico che ha attualmente, non segue nessuna dieta in particolare. Infatti non ama accettare privazioni a tavola ma vuole mangiare tutto ciò che preferisce. Per mantenersi in forma preferisce praticare attività fisica ed infatti va in palestra quattro volte a settimana. Lo sport che pratica più spesso e con maggior piacere è lo strike zone, che consiste in una serie di esercizi che servono a bilanciare forza e disciplina. Di conseguenza dietro la sua silhouette invidiabile non c'è né un'alimentazione rigida né tantomeno la chirurgia estetica, ma soltanto una grande passione per lo sport. Voi che cosa ne pensate? Avete notato differenze in Sabrina Ferilli nel corso degli anni e secondo voi si è rifatta? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.